È vero che stiamo uscendo da un periodo abbastanza turbolento ed è anche vero che per il momento sembra quasi difficile investire ma ti sbagli di grosso, questo è il momento giusto perché? Perché oggi ci sono a tua disposizione tantissimi incentivi che ti permettono di poter investire nel marketing, nella formazione a costi bassissimi se non quasi a zero Di cosa sto parlando? Parlo del bonus pubblicità, di formazione 4.0 V di industria 4.0 e di fondi impresa, tutti bonus, tutti incentivi che ti potranno permettere di investire e rilanciare la tua attività dopo questo periodo turbolento Quindi se sei interessato a come poter risparmiare e rilanciare la tua attività non ti resta che seguirci sui nostri canali social nelle prossime settimane e troverai i video dettagliati su queste opportunità per rilanciare la tua azienda Ti aspettiamo!